Musica Parliamo con un giovane apicoltore della provincia di Ferrara in particolare di un progetto chiamato Api in Forma un progetto appunto finalizzato a dare dettagli da parte di Coldiretti su tutti coloro che si vogliono lanciare appunto in questo segmento, in questo settore Io vengo da una famiglia di agricoltori e mio nonno era apicoltore nel dopoguerra il miele aveva un'importanza fondamentale in quanto mancanza di zucchero e io così mettendo in ordine i magazzini mi sono ritrovato dei materiali suoi da lì mi è preso, si può dire, il pensiero che poi è sfociato in una vera e propria passione Che cos'è Api in Forma? Quali sono le vostre iniziative? Api in Forma nasce come progetto di valorizzazione del territorio appunto di Ferrara e si rivolge a chi non è apicoltore e lo vuole diventare Nasce con l'obiettivo di sanare la mancanza di associazioni di apicoltura su questo territorio Gli obiettivi ce ne sono tanti Penso a un rapporto con gli enti di controllo Penso a un supporto per quanto riguarda la burocrazia o il veterinario Ci tengo in maniera particolare anche a sottolineare quello che potrebbe essere un dialogo tra agricoltori e apicoltori in quanto viene da sé che le api sono necessarie per l'impollinazione delle piante ma anche necessitano di zone verdi sane incontaminate quale la buona agricoltura italiana è in grado di garantire Poi anche un dialogo tra quelli che sono gli apicoltori e i consumatori Siamo, si può dire, vittime di importazioni da paesi dove i controlli non sono garantiti Spesso ci troviamo miele sulle nostre tavole che non è prettamente miele Da qui anche l'importanza appunto di leggere le etichette Ovviamente il consiglio è quello di comprare miele prodotto in Italia Si parla sempre di miele ma avere le api non vuol dire soltanto produrre miele? No, affatto Infatti ultimamente sta prendendo sempre più piede come dire, l'importanza anche di prodotti oltre al miele, primo tra tutti la cera, il propoli, il polline Ultimo ma non ultimo anche il veleno una novità adesso è viene chiamato bitox nella cosmetica perché pare che il veleno abbia delle proprietà simili al botox Attualmente dunque il settore dell'apicoltura è un settore in crescita, Ferrara o come possiamo definirlo per quello che riguarda insomma l'importanza di questo segmento preciso? Sì, è un settore in crescita ci sta sempre prendendo più attenzione sulla tematica appunto per questo si è formato App Informa anche per creare supporto a chi novizio e non poco anche sta prendendo piede come a livello obbistico Un tema molto sentito da Coldiretti in questi ultimi tempi è quello dell'etichettatura so che avete anche una raccolta firme in corso ecco come sta procedendo e quali sono i vostri obiettivi? L'obiettivo è quello di poter presentare alla comunità europea Italia quindi con Coldiretti ma anche altri paesi comunitari che stanno facendo la stessa cosa oltre milioni di firme raccolte in almeno 7 paesi europei appunto per che cosa? Per riuscire ad avere finalmente una legislazione uniforme in tutti i paesi della comunità che consente di avere obbligatoriamente in etichetta l'origine di tutti gli alimenti quindi non soltanto come oggi alcuni paesi guida che stanno facendo esperienza in questo quindi ad esempio l'Italia, la Francia ma tutta Europa su tutti gli alimenti e quindi non lasciare delle zone d'ombra che invece oggi purtroppo esistono stiamo raccogliendo firme e direi che i consumatori stanno ben raccogliendo questa ipotesi di lavoro perché è un elemento riconosciuto come interessante importante da parte del cittadino è anche difficile a volte leggere l'etichetta però se uno ha questa pazienza questa attenzione proprio di leggerla trova delle informazioni interessanti anche perché ci sono purtroppo alimenti che arrivano da paesi extracomunitari che si confermano con almeno 10 allarmi al giorno di sicurezza alimentare non proprio buoni Ecco, quindi questo significa comunque un dato positivo il fatto che il consumatore sia sempre più attento e soprattutto sempre più sensibile a queste problematiche Il consumatore è attento direi che abbiamo contribuito a far nascere un po' questa attenzione perché effettivamente oggi scegliere in modo consapevole è riconosciuto come un elemento importante nell'alimentazione quotidiana nello stile di vita nel capire quali sono i cibi che ci fanno davvero bene e quelli un pochino meno Le prospettive quali sono? Si sta procedendo verso questo? Le prospettive sono di un'attenzione che speriamo di poter portare appunto alla comunità in modo importante quindi più firme avremo più avremo forza per poter rappresentare questa iniziativa di legge comunitaria che nasce appunto dai cittadini e quindi invitiamo ancora una volta tutti a presentarsi ai nostri mercati i nostri punti uffici dove è possibile appunto trovare i banchetti di colo diretti e darci questa firma che è molto preziosa Ecco, a proposito del mercato ci troviamo nel mercato appunto di Spazio Grisù quindi praticamente nell'ex caserma di via Poledrelli come sta procedendo appunto questo mercato e quali sono le caratteristiche perché vedo che siete già attrezzati anche per il Natale Sì, il mercato è l'unico mercato coperto che abbiamo nella città di Ferrara è sull'onda di un'iniziativa di colo diretti che in tutta Italia sta cercando appunto di costruire dei mercati coperti per favorire l'incontro tra cittadini e produttori anche in modo riparato l'iniziativa sta avendo successo abbiamo una fluenza buona effettivamente per il Natale stiamo preparando qualcosa in più quindi ci sono ceste di Natale fatte direttamente con i prodotti freschi che si trovano al mercato è possibile ordinarla o farsela preparare al momento ma anche ordinarla e poi il 19 che faremo una piccola festa anche quindi invitiamo fin d'ora a stare attenti alle comunicazioni che faremo perché appunto avremo qualcosa in più del solito e portarsi a casa una cesta sicuramente made in Italy sicuramente a chilometro zero sicuramente buona grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti